e di ottenere così alcune certificazioni come BRC, IFS, IC, Bio e Vegan. Per noi questo è stato un modo per offrire maggiore trasparenza e sicurezza a tutti coloro che scelgono le nostre pizze. Infatti in particolare la certificazione IFS ci ha permesso di comunicare il nostro impegno per la sicurezza alimentare dimostrando di aver preso tutte le misure necessarie per confezionare un prodotto sicuro, di rispettare e di controllare un sistema di vincoli che sono di altri paesi. Infatti oggi esportiamo negli USA e anche in Europa.